Bentornati amici, allora, qualche video fa abbiamo parlato del settaggio veramente fatto in maniera impeccabile del nostro browser per eccellenza, almeno per quanto riguarda il mio pensiero, che è Mozilla Firefox. Oggi continueremo sempre con questa piccola scia, quindi passeremo invece ad un settaggio veramente perfetto del nostro browser che dà già in default su Windows e Microsoft. Quindi stiamo parlando del famoso Edge. Edge osale dire che dopo si accosta quasi insomma a Firefox, a Mozilla, è davvero un ottimo browser. Quindi andiamo a fare oggi un video dettagliato in tutte queste impostazioni perché ricordiamo sempre come abbiamo detto nel video passato, non va bene come andiamo a scaricare il nostro browser e installarlo così in maniera di default. Come già avete ben visto su Firefox ci sono parecchie, parecchie cose da andare a attivare o disattivare. Quindi lo stesso vedremo oggi con il Microsoft Edge. Andremo a vedere tutti questi punti e renderemo anche impeccabile ed infallibile anche il nostro Microsoft Edge. Non perdiamo tempo e vediamo di che cosa si tratta. Eccoci qua, allora andiamo a vedere come andare a settare il nostro Microsoft Edge. Quindi in questo caso andando qua sotto vedete benissimamente l'icona, clicchiamo all'interno e vediamo come si presenta una volta che voi l'avete scaricato da Internet. Anzi addirittura non c'è nemmeno bisogno perché il 10, l'11 insomma già l'hanno integrato perché va a sostituire, ricordiamo, il vecchio Internet Explorer. Quindi qui per come abbiamo fatto vedere il video per quanto riguarda il Mozilla Firefox, per prima cosa andiamo ad eliminare la pagina iniziale e mettere insomma il motore di ricerca che più vi aggrada. Quindi in questo caso io cambierò con Google. Quindi andiamo sempre nei tre puntini, vedete che su per giù l'impostazione, il cambio è sempre uguale. Quindi andiamo sulla rotellina, l'ingranaggio impostazioni e qua come al solito sulla sinistra se clicchiamo sulla pagina profili qua a destra si aprirà sino al basso il profilo. Se andiamo su privacy tutta la parte della privacy e così via. Quindi in questo caso per andare a cambiare invece la pagina iniziale dobbiamo recarci su start home e nuove schede. In questo caso andiamo a togliere questo primo pallino qui e andiamo a mettere il terzo pallino, quindi apri queste pagine e dobbiamo aggiungere una nuova pagina. Qua inseriremo la pagina insomma che a noi più ci aggrada il motore di ricerca. In questo caso www.google.it. Se voi volete Bing andate ad inserire Bing, se voi volete DuckDuckGo andate ad inserire DuckDuckGo. Se volete insomma MSN, quello che sia, libero, potete andare ad inserire qua il sito, mi raccomando partendo da www. Quindi faccio aggiungi e in questo caso già è stato aggiunto come pagina principale motore di ricerca Google. Importantissimo andare anche a visualizzare, aggiungere il pulsante home che è scollegato. Quindi in questo caso andiamo a cliccare, ad attivare il nostro pulsante home, si attiverà qua a sinistra se ci fate caso. E qui dobbiamo andare a immettere di nuovo il nostro motore di ricerca. Quindi www.fotocopia.google.it Quindi in questo caso non solo come pagina iniziale, ma se siamo per esempio su MSN e subito clicchiamo la home per andare al motore di ricerca, direttamente lui ci riporta praticamente a Google. Quindi questo è per quanto riguarda praticamente il motore di ricerca. O se vuoi dire che poi lo salteremo perché già qua vedete che non c'è più nulla. Questo lasciamo tutto per com'è. Quindi partiamo da profili. Allora qui ci possiamo anche creare insomma un nostro account, accedere con il nostro account. Siccome qua stiamo lavorando su un offline, non toccheremo niente per quanto riguarda il profilo. Lo stesso per l'info, pagamento, password e dati personali. Queste sono dati personali che voi potete andare a inserire se volete. Io consiglio sempre di entrare in un profilo sempre senza essere logati. Sempre per evitare di lasciare dati. Tanto che su internet con i cookie eccetera eccetera si possono vedere alcuni dati. Quindi evitiamo sempre di logarci, però non è un punto fondamentale. Quel punto fondamentale invece è il secondo, la privacy e ricerca dei servizi. Quindi qua lasceremo precisamente bilanciato, il riquadro di inserito bilanciato, né base né rigido perché è vero, dobbiamo trovare sempre una via di mezzo nei nostri browser. Né troppo base, quindi troppo alla merce di tutti, né troppo rigido che non permette la gente di andare a navigare. Quindi in questo caso possiamo andare a passare sotto a cancellare i dati di navigazione così come Firefox. Quindi cancella ora i dati di navigazione, noi possiamo scegliere cosa andare a cancellare. Insomma andiamo qua a mettere sempre ultima ora, cambiamo su tutto e qui andiamo a eliminare, evidenziare tutto quello che possiamo andare a eliminare di quello che abbiamo fatto nel sito, se che sia nuovo, se che sia già utilizzato da anni. Quindi possiamo andare a fare intanto un cancella adesso, quindi cancella ora. E in più dobbiamo andare a cliccare su questa scritta, scegli cosa cancellare ogni volta che chiudiamo il browser. Quindi in questo caso attiviamo completamente tutto, sia le esplorazioni, sia il download, sia i cookie importantissimi, sia le immagini memorizzate nella cache, password, riempimento automatico e autorizzazione sito. In modo che lui ogni volta che noi andiamo a chiudere il browser, praticamente va a cancellare questi dati di navigazione per non farlo ora come ho fatto in questo momento io con la prima stringa. Quindi non dobbiamo avere il pensiero di andare a cancellare ogni qualvolta tutti questi dati. Andiamo sul livello privacy, invia richieste e non tenere traccia. Abbiamo detto di sì, vogliamo che invia richiesta, vogliamo che non venga tenuto traccia, insomma, di tutto quello che facciamo noi su internet. Per meglio dire, attiviamo alla spunta, poi se il sito è veramente, se il sito, se il browser è veramente buono e fa questo lavoro, non terrà traccia dei nostri e dirà ai siti che apriamo di non tenere traccia delle nostre richieste. Consente ai siti di verificare se sono stati salvati i metodi di pagamento, questo lasciamolo sempre attivo così per come. Per quanto riguarda i dati di obbligatori, comunque la diagnostica in generale, sia obbligatoria che facoltativa, non dobbiamo fare niente. Ricerca e miglioramento del servizio non facciamo nemmeno niente, non possiamo, non vi consiglio insomma di attivarlo. Personalizza gli annunci pubblicitari, lasciamo così per com'è. Per quanto riguarda la sicurezza, quindi il Microsoft Defender Smart Screen, dice protegge il dispositivo dai siti e download, è la stessa cosa abbiamo fatto su Firefox la volta scorsa, ovviamente protegge dai download che non sono insomma tanto scaricati, quindi che abbiano poco, fra virgolette, recensioni. Blocca le app potenzialmente indesiderate, possiamo cliccarle, perché se qualche app è indesiderata, direttamente la blocca e non farà avvenire questo download. Se voi siete sicuri che le app che scaricate sono sicure, allora, scusate il gioco di parole, togliete questa spunta, perché comunque non vi permetterà di scaricare molte applicazioni che per lui sono indesiderate. Quindi se per esempio per lui il Mule è indesiderata, non ve la farà installare e scaricare. Quindi poi non vi dovete dimenticare che avete messo questa impostazione, perché non è detto che per esempio il Mule lo scaricherete subito e vi ricordate, ma io ho messo il blocco delle app potenzialmente indesiderate. Potete scaricare il Mule, per esempio, dopo due mesi. Quindi magari non sapendo che cosa possa essere l'errore, invece è semplicemente che avete inserito un blocco nelle app. Quindi attenzione a questa spunta. Protezione degli errori di digitazione possiamo lasciare, prendete la spunta per com'è. Cancella tutti i siti consentiti in precedenza. Questo se volete potete anche cancellare, sarebbe ricruti che avete accettato o non avete accettato, o tutti i consensi che voi avete dato. Quindi potete mettere anche cancello o no, non è chissà che cosa. I DNS abbiamo detto che li lasciamo così per come sono, perché praticamente noi utilizzeremo il provider dei servizi correnti, quindi quelli che offre il nostro ISP, ma vi ho detto come al solito come andarli a sostituire con il programmino. Per il resto invece lasciamo tutte praticamente così per com'è. I servizi, praticamente utilizzo un servizio web per aiutare a risolvere gli ore di navigazione, possiamo lasciare la spunta attiva, suggerisci siti simili quando non è possibile trovare un sito web, potrebbe essere anche una cosa ottima. Risparmio tempo e denaro con shopping in Microsoft Edge, questo diciamo che è una cosa che potete andare a togliere, è completamente superflua. Ricevi notifiche sugli elementi correlati che può esplorare con Discover, sempre cose insomma di pubblicità, potete anche togliere, non togliere, insomma le notifiche insomma a me sinceramente danno un po' di noia, quindi praticamente anche lo shopping con Microsoft Edge, come vedete se l'attivo e disattivo, si va a togliere con quell'icona qua. Io lo vado a togliere sempre per avere meno noie, meno icone sul mio, sulla mia pagina l'home page, insomma di Edge, barra dei indirizzi a ricerca, gestisci i suggerimenti di ricerca, questi sono come abbiamo visto insomma nel video presente di Firefox, e lui quando noi andiamo a digitare l'iniziale di qualche sito, lui incomincia già a cercare qualche sito correlato, a me potrebbe dare magari un pochettino fastidio, però se c'è il cambio all'interno, motore di ricerca usato, questo è qui, lo dobbiamo andare a cambiare, quindi abbiamo detto Bing no, se voi non volete Bing, non sono cose, perché qua inoltre alla privacy, vedete, fa settare anche la ricerca e i servizi, questi sono dei servizi, io lo sposterei su Google, come presente motore di ricerca, quindi in questo caso possiamo andare indietro, continuando sempre giù, eravamo arrivati sui servizi, consente a Microsoft Edge di organizzare le schede, si potrebbe anche lasciare così per com'è, ricevi notifiche sugli elementi correlati per aspettare con Discover l'abbiamo tolta, salva screenshot dei siti per la cronologia, quindi in questo caso questa noi la teniamo disattivata, non salviamo screenshot sulla cronologia, mi ho detto sempre che la cronologia è meglio sempre tenerla bella pulita, per una privacy migliore. Per quanto riguarda l'aspetto, quindi già il grosso l'abbiamo fatto, perché avete ben capito che nei browser è sempre meglio andare a settare una buona privacy, per quanto riguarda l'aspetto, qua ci sarà proprio tutto l'aspetto del nostro Edge, quindi non siamo più qua in grado di settare la privacy, ma qua siamo in grado di settare tutta la parte relativa all'aspetto, che non è da meno, perché voi potete, qua vi potete divertire, sbizzarrire su tutti i colori che vi possano piacere, su prende il nostro Edge, se ci hai fatto caso, se io metto per esempio questa icona azzurrina, già cambia tutto il colore, la posso mettere allo stick, insomma quello che mi piace di più anche per la vista, per rilassare un pochettino la vista, per esempio noi potremmo tenere anche per esempio questo bellissimo arancione, anche perché ricorda molto i colori del mio canale assistenza informatica online. In questo caso possiamo anche andare a lasciare a prova l'aspetto di Microsoft Edge che già è inserito in di qua, diciamo che sono a vostro piacimento, non c'è più diciamo qua qualcosa da andare a settare di pericoloso su questa almeno zona quindi aspetto. Mossa menu azioni scheda, se lo togliamo o se lo attiviamo praticamente qua potete vedere che in alto si attiva il menu scheda, io direi sempre di andarlo a disattivare. Nascorre il bar del titolo in verticale, la possiamo anche andare a nascondere o a lasciare, quindi in questo caso sempre questione di estetica, quello che volete voi, io tengo sempre a nascondere perché voglio sempre, abbiamo detto, il mio browser per gusti personali sempre più pulite e scarno possibile. Poi mostra le schede verticali per tutte le finestre browser, possiamo disabilitare o abilitarla, mostra l'anteprima delle schede di passaggio del mouse, si potrebbe anche lasciare attiva, quindi tutto questo è prende in base alle nostre scelte. Pulsante home è attivo perché l'abbiamo attivato poco fa che sarebbe la casetta per ritornare indietro, l'abbiamo scelto praticamente il Google che già è inserito, pulsante avanti eccetera eccetera, quindi queste sono prende tutte scelte che noi possiamo andare a vedere insomma ad attivare, anche il pulsante download per esempio, lo potete andare ad attivare per trovare subito il download prende dei nostri file, quindi basta cliccare qua dentro e troveremo il download della nostra cartellina. Pulsante informazione di base nel browser, per esempio si possa anche andare a togliere se vi servono le informazioni di base, l'abbiamo qua però per esempio a gusto personale lo possiamo andare anche a dare a togliere. Pulsante condividi se volete lo potete andare anche a inserire, il toolkit, potete andare a fare insomma quello che vuoi, non è diciamo una cosa che vi posso dire io come andare a fare, come non andare a fare, un gusto personale. Per quanto riguarda la barra laterale invece, qua abbiamo sempre, mostra sempre barra laterale, o la togliamo, io ho detto che per motivi di cosa a me tutto questo laterale non mi interessa, voglio meno confusione possibile, la vado a togliere, non mi interessa. Personalizza i siti principali nella barra laterale personalizzata, queste di qua si può anche andare a togliere, perché se una volta che ho tolto la prima è inutile lasciare anche la seconda. Se a voi piace la barra laterale la potete andare benissimamente a andare a lasciare, perché per esempio qua si attiva subito Copilot, fatto quello che sia, anzi Copilot anche nella barra, essendo negli strumenti, non viene staccata. Quindi praticamente possiamo anche andare su Start Home, che già l'abbiamo vista poco fa, serve solo per cambiare la pagina iniziale, condividi, copia e incolla, può essere lasciato normale, così per com'è, i cookie a utilizzazione sito, possiamo dare qua sempre come abbiamo visto su Firefox, se vogliamo fare accedere alla nostra posizione direttamente o chiedere prima. Per esempio per la posizione c'è lasciato qua richiedi prima dell'accesso, scelta consigliata. Esatto, sì. Possiamo anche dire di andare a bloccare qualche sito, consentire qualche sito, però io dico sempre di lasciare attiva questa, perché dirà al sito se può accedere alla nostra posizione ponendo a noi questa domanda o no. Quindi se noi non vogliamo far sapere la nostra posizione, per esempio Instagram o Facebook, quando noi andiamo a scattare delle foto, e postarle lui chiederà insomma se vogliamo far sapere la nostra posizione in quel, diciamo, precisi stand. Lo stesso vale per accorciare i tempi, così noi ci dilunghiamo, per tutte queste altre, diciamo, settaggi, quindi fotocamera che di prima va bene, microfono che di prima, i sensori, per esempio, c'è scritto consenti e notifiche che di prima, il JavaScript, questo per esempio lasciatelo sempre consentito, perché il Java, ricordiamoci che è un sottoprogramma che serve per far funzionare milioni e milioni di programmi. Immagini mostra tutto, pop-up, lì blocchiamo, sono tutte quelle pubblicità, abbiamo detto che si aprono quando accediamo a qualche sito, si aprono queste fastidiose pubblicità, sicuramente sarà accaduto a molte persone, a molti di voi, quindi teniamo sempre, blocchiamo i pop-up, annunci intrusivi già sono bloccati, quindi va bene, perfetto così. Download automatici, chiedi quando un sito tenta di scaricare, più file automaticamente, questo va bene lasciarlo su chiedi. Se volete modificare, comunque basta andare all'interno e togliere la spunta, da qua il palino disattivarlo. Poi, andando sotto, quindi lo stesso, e prende per tutto questo di qua, quindi direttamente potete andare a attivare o non attivare le autorizzazioni al sito tramite qua, quindi sono talmente tante, voi vedete all'uno ad uno quale conviene attivarvi e quale no. In sostanza, io per consigliarvi è fare un sunto veramente veloce, tutto quello che riguarda la sicurezza, disattivatela sempre, tutto quello invece che non riguarda la sicurezza, lo potete tenere completamente attivo o lo potete attivare. Browser predefinito, qua la stessa cosa, possiamo impostare il browser predefinito, quindi age, rispetto a Firefox, se volete impostarlo come primario. Quindi, se lo volete impostare invece come secondario, non impostatelo mai come browser predefinito. Perché già avevo detto comunque che il miglior browser, secondo me, rimarrà sempre Firefox, quindi vi avevo consigliato di impostare come predefinito già Firefox. Per quanto riguarda il download, e qua possiamo andare, importantissimo il download, quello che dicevo io, andare a cambiare questa famosa cartellina, qua la freccettina in basso, che è tutto quello che andiamo a prendere, a prelevare, a scaricare da internet, lui lo metterà sul download, però per evitare di farvi cercare questa cartellina, che è comunque, come scorciatoio, ci andrete da questa freccettina che poco fa vi ho fatto attivare, vi direi sempre di andare a inserire, qua, diciamo, il gioco di parole, ecco non è esatto, perché lui dirà cambio password, però ragazzi, non andiamo a cambiare la password, questo è magari fra virgolette e lui lo considera password, ma è un errorino, secondo me, che ancora non hanno corretto la dicitura, è il cambio di cartella, quindi per cambiare la cartella di destinazione dei nostri download, dobbiamo, ahimè, cliccare su cambio password, però non cambierete nessuna password, cambierete soltanto la destinazione dei download, andiamo a cliccare a sinistra desktop, andiamo a cliccare seleziona cartelli, in modo che, già, tutto quello che noi andiamo a scaricare, lo troveremo nel desktop, senza andare a cercare questo famosissimo file, oddio, dove ha messo, dove sia, dove è stato scaricato, richiede un'operazione da seguire, con un download, chiedi sempre la conferma per salvare un file, oserei dire no, perché potrebbe essere stancante, una volta che noi vogliamo salvare il file, direttamente lui lo salverà, apri file di office nel browser, questo vi consiglierei di andarlo a disattivare, noi dobbiamo aprire i nostri file office, con il Microsoft Office, o con il Libre Office, o con un Open Office, quindi con programmi dedicati, che sono ovviamente programmi proprio ad hoc, creati ad hoc, studiati veramente a dovere, perfetti, oserei dire, soprattutto per il Microsoft, ovviamente è a pagamento, se parliamo delle Home Edition, delle Professional, addirittura Edition, però è tutto un altro mondo, ovviamente andare a utilizzare un Libre Office, oppure un Open Office in formato gratuito, comunque come pacchetto Office, perché abbiamo visto che il Libre Office, per esempio qua, stiamo facendo una piccola parentesi, per modificare il PDF, è molto 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 professionale, soprattutto se è un programma, che è un programma open source, quindi gratuito, come piace a noi, mostra il menu download, all'avvio del download, questo potrebbe essere anche una cosa utile, qua possiamo andare a settare, insomma, tutto quello del family, potete poi vederlo voi tranquillamente, perché ci sono i filtri, i contenuti, report, attività, insomma cose da controllare, ecco, lingua possiamo lasciare così, per com'è italiano, per quanto riguarda le stampanti, possiamo gestire le stampanti, ma serva ben poco, sistemi e prestazioni, possiamo andare a dare un'occhiata, continua a eseguire le estensioni, delle app in background, quando è chiuso, perfettamente può essere utile, utilizza l'acceleratore perfetto così, quindi ho qua, prendo ottimizza prestazioni, sto dando soltanto un'occhiata, io veloce, per essere sicuro di non farvi cambiare completamente nulla, sì, ovviamente potete lasciare su sistema e prestazioni, tutte cose così per come sono, reimposte impostazioni, se non, se volete riportare leggi alle impostazioni, proprio iniziali, che comunque io sconsiglio, sempre che già avete capito, che abbiamo cambiato un bel po' di cose, potete mettere, reimposte impostazioni, cliccare qua dentro, ritornerà tutto come prima, quindi potete apportare qualsiasi modifica, se non vi piace la modifica, è stata apportata al vostro Edge, basta andare su reimposta impostazioni, per quanto riguarda tutto l'altro, non c'è niente da andare a modificare, quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto, su Microsoft Edge, quindi un pochettino più sferiti, perché abbiamo già, veniamo già dal video precedente, quello di Firefox Mozilla, del settaggio, che spero insomma vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento, e lo stesso abbiamo fatto oggi, praticamente con Microsoft Edge, altri browser, apparentemente non l'i set, perché abbiamo detto, che i migliori browser sono, comunque in accoppiata, Firefox il primo di tutti, secondo me il top, e poi abbiamo il Microsoft Edge, che per giunta non c'è, nemmeno bisogno di scaricarlo, poco fa avevo detto di scaricarlo, ma non c'è bisogno, perché comunque è già installato, preinstallato nel nostro sistema operativi, che siano 10, 11, quello che sia, e abbiamo visto insomma, il settaggio di questi per browser, per quanto riguarda il Mac, il Safari, il Safari è talmente un browser, secondo me è perfetto, quindi per quanto riguarda tutto il comparto Apple, è veramente un browser perfetto, che già così per com'è, preinstallato, è qualche cosa di eccezionale, ha veramente ben poco da andare a settare, se non quasi nulla, quindi è inutile ad andare a settare, a fare un video di settaggio per il Safari, chi ha l'Apple come così, insomma altre cose, non solo il browser, ma altri programmi, di solito hanno veramente un settaggio già prestabilito, che è veramente ottimo come privacy, quindi effettivamente non andremo neanche più a parlare, né di Chrome, perché secondo me Chrome non è un ottimo browser, né di Torre, né di eccetera eccetera, quindi non andremo a parlare più di, non andremo a fare alcuni video di altri settaggi, vi consiglio sempre, insomma di, come ho detto prima, e continua a dirlo, dato che stiamo parlando di browser, sia di Edge che di Firefox, di stare lontano, questo è un consiglio, poi voi fate quello che volete, come vi ho detto sempre, di stare lontano da tutti quei browser, che già all'interno vi dicono, che c'è omaggiato a una VPN, o che sia continuo, perpetuo, che non credo che lo faccia nessuno, o che sia di pochi mega, attenzione perché andiamo ad affidare il nostro indirizzo IP originale, con un indirizzo IP fittizio a questi browser, quindi attenzione, anche in generale, stiamo parlando non solo di browser che hanno già all'interno delle VPN, che loro dicono che sono gratuiti, effettivamente sono gratuiti, ma sono effettivamente scarsissime, e poco sicure, perché andiamo proprio ad affidare, a filtrare i nostri indirizzi IP, vi ricordo di andare a vedere l'argomento, il video delle VPN dedicato, perché avevo detto che c'era solo un re, per quanto riguarda le VPN, è tutt'oggi ancora così, quindi non affidatevi sia a browser, che a VPN proprio gratuite, mi raccomando, è vero che tutto quello che è gratuito, ci è sempre piaciuto, e ci piacerà sicuramente in futuro, però quando si tratta di sicurezza, mi raccomando, non scegliamo tanto le cose gratuite, quindi andiamo un pochettino sul pagamento, perché la sicurezza prima di tutto. Ciao a tutti!